Il pareggio contro il Bari ha conservato l'imbattibilità interna all'Avellino, ma soprattutto ha mostrato una squadra che non si arrende alle prime difficoltà. Quella contro la capolista è stata una prestazione tutta a cuore e muscoli. I Galletti non hanno mai calciato a rete ed è impensierito forte. Un gol su calcio di rigore e nulla più. Per 94 minuti la leader del campionato è sembrata la compagina di Braia. Nell'1-1 finale brilla ancora lui, Mamadou Canuté. Sugli spalti, molti facendo la rima baciata, hanno urlato a squarciagola Mamadou, pensaci tu. Alla fine hanno avuto ragione. L'esterno bianco-verde parte forte, come il suo solito, senza dare punti di riferimento alla difesa dei Galletti. Poi perde un pizzico di confidenza con la partita. Ci rientra e sigla il gol del pareggio. Inprescindibile. Altro calciatore che ha disputato una prova maestosa e sontuosa è stato Antonio Matera. Ci mette personalità, confermando il buon momento di forma. L'ex cavese ha sovrastato Maita, non proprio l'ultimo arrivato, ed ha fatto capire all'ambiente e allo staff tecnico che vuole ritagliarsi uno spazio importante in questo Avellino. Uscito tra gli applausi, come dicono gli influencer, ci piace. Flop invece l'ingresso di carriero. Il centrocampista ex Monopoli e Parma è sembrato un pesce fuor d'acqua, ma in partita Braia poteva o doveva cambiarlo prima. Ancora lontano dal miglior carriero che conosciamo, complice a una condizione atletica non al meglio. In queste due gare, che coincidono con la fine del giorno di andata, deve dare di più. Non sufficiente anche la prestazione di Riccardo Maniero. Da ex sente molto la partita e avrebbe voluto spaccare il mondo. Anziché di spaccare la porta, dopo pochissimi minuti regala da due metri il pallone alla curva sud. Perde il duello con Terranova, che lo annulla senza problemi.